ciao 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 a tutti dunque questo è il primo video per oggi e volevo parlarvi del fatto che dovete assolutamente iscrivervi a steemit perché per esempio new wallet ha raggiunto la cifra record di 10 mila dollari e l'ha anche superata quindi sono molto felice e questo non è dovuto al mio impegno soltanto nello scrivere ma nel buon andamento di quelle che sono le monete che sostengono tutto il sistema di steemit che sarebbero lo steam power e gli steam dollars quindi la situazione va molto bene dal punto di vista del mercato vi metto a riprova di questo mio wallet visto che è una cosa pubblica quindi se vorreste vederla la vedreste comunque e vi sprono ancora una volta ad iscrivermi a steemit e a partecipare alla comunità italiana ok perché secondo me è una bellissima scelta questo è tutto da alessandra un bacione